Ben ritrovati, nuovo appuntamento con l'informazione di TV City, primo piano naturalmente sulla politica, facciamo il punto sulla prima giornata della tornata elettorale che ha visto gli italiani tornare alle urne per il referendum in sette regioni, per il rinnovo del Consiglio regionale oltre 960, i comuni chiamati al voto per le amministrative, in campagna bassa l'affluenza alle urne secondo i dati della prima giornata rispetto ad altre regioni, così nella provincia di Napoli a Torre del Greco si registra una percentuale del 32,83% dei votanti secondo i dati della prima giornata. Spazio poi anche alla cronaca con l'operazione della Polizia di Stato, 14 persone sono finite in manette per traffico internazionale di droga e poi sabato esposto nella Basilica di Santa Croce in occasione della festa di San Gennaro il tradizionale bozzetto del carro dell'Immacolata, ma purtroppo quest'anno la processione non si farà per l'emergenza Covid, questo e molto altro. Guardiamo i servizi. Italiani chiamati al voto nel totale rispetto delle norme anti-Covid in una tornata elettorale che vede impegnati gli aventi diritto al voto nelle giornate di domenica e lunedì. Si vota fino alle ore 15 di lunedì 21 settembre con lo scrutinio che inizierà dalle schede del referendum, continuerà con quelle delle regionali per poi terminare con lo spoglio delle schede per le comunali. 962 i comuni italiani dove si vota per il rinnovo della giunta comunale. Alle urne anche gli abitanti di Veneto, Marche, Campania, Puglia, Toscana, Ligure e Valle d'Aosta per eleggere il nuovo governatore. In Veneto e in Sardegna si vota inoltre per le elezioni suppletive del Senato della Repubblica. Italiani chiamati a scegliere anche per il referendum costituzionale per il taglio dei parlamentari. Referendum che non ha bisogno di raggiungere il quorum del 50% più 1, essendo confermativo. Nella prima giornata di votazioni di questa tornata elettorale affluenza nazionale del 39,40% per il referendum. In Valle d'Aosta registrata la percentuale più elevata per il referendum, con il 56,37% di eventi diritto al voto che si sono regati alle urne. Bassa affluenza invece nelle isole. Sicilia e Sardegna hanno registrato rispettivamente il 24,91% e il 23,41%. Date a ribasso anche in Campania per le regionali, con il solo 38,92% di eventi diritto al voto che si sono regati alle urne. Elettori campani che possono effettuare un voto disgiunto, indicando un candidato governatore e volendo una lista che non lo appoggia. Nel caso si voglia indicare una doppia preferenza, una dovrà riguardare un candidato di genere maschile e l'altra un candidato di genere femminile della stessa lista. Concorrono alla presidenza della regione campania i candidati. Sergio Angrisano con terzo polo, Stefano Caldoro per il centrodestra, Valeria Ciarambino con il Movimento 5 Stelle, Giuseppe Cirillo con il Partito delle Buone Maniere, il governatore uscente Vincenzo De Luca per il centrosinistra, Giuliano Granato con potere al popolo e Luca salta la macchia sostenuto dalla lista Terra. Sono più di 5 milioni i cittadini campani chiamati alle urne. Campania che non registra però un elevato numero di eventi diritto che si sono regati ai seggi. Nella giornata di domenica è registrata la percentuale del 38,92% che relega la regione campania ad una delle ultime posizioni per affluenza tra le 7 regioni che dovranno rinnovare il Consiglio regionale. Registrato il 42,78% invece per quanto riguarda il referendum costituzionale per il taglio dei parlamentari. Tra le città del Vesuviano, alle ore 23 di domenica, Torre del Greco registra la bassissima percentuale del 32,83% di votanti. È andata meglio invece nei comuni dove i cittadini sono chiamati a votare anche per il rinnovo del Consiglio regionale. A Ercolano registrato alle 23 di domenica il 51,94% con il confronto tra il sindaco uscente Ciro Bonaiuto per il centrosinistra, Colomba Formisano sostenuta dalle liste civiche, Luigi Parentato con Centro Democratico e Pierluigi Sorrentino con Ercolano e la Stella, la città e i cittadini. A San Giorgio a Cremano invece registrato ieri sera il 50,36% in una tornata elettorale che vede confrontarsi per la carica di sindaco i candidati, Salvatore Caldieri con Fratelli d'Italia, Luigi Gallo per Italia in Comune, Giovanni Marino supportato da diverse liste civiche, Patrizia Nola per il Movimento 5 Stelle e il sindaco uscente Giorgio Zinno per il centrosinistra. Altri 26 i comuni dove si vota per le amministrative, Caivano, Calvizzano, Cardito, Casalnuovo, Casamarciano, Casandrino, Casavatore, Frattamaggiore, Giuliano, Grumo Nevano, L'Acquameno, Mariglianella, Marigliano, Massalubrense, Monte di Procida, Mugnano, Poggio Marino, Pomigliano d'Arco, Pompei, Procida, San Gennaro Vesuviano, San Paolo Belsito, Sant'Anastasia, Saviano, Sorrento e Terzigno. Sono gravemente accusati di traffico internazionale e spaccio di sostanze stupefacenti. Questa mattina la squadra mobile di Napoli, con la collaborazione della squadra mobile di Caserta, ha eseguito un'ordinanza cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari su richiesta della DDA nei confronti di 14 indagati. Disposto il sequestro di beni immobili, autovetture, motoveicoli, conti correnti e quote societarie. Le indagini sono partite da Napoli lo scorso 14 giugno 2018, quando al bar Lesciabi Caffè si verificò una violenta esplosione con conseguente incendio dell'intera struttura, gestita da una delle società riconducibili agli indagati. Gli elementi raccolti hanno consentito di individuare un consolidato traffico di cocaina importata dai Paesi Bassi, riconducibile alla famiglia Buonavolta parte del cartello camorristico Mazzarella. In particolare l'arresto di uno dei corrieri è avvenuto l'11 aprile 2019 al rientro da un viaggio dall'Olanda per conto dell'organizzazione che fu trovato in possesso di circa 7 chili di cocaina e di una grossa somma di denaro destinata all'acquisto di altre sostanze stupefacenti. Ulteriore riscontro è stato acquisito con il sequestro di persona a scopo di estorsione nei confronti del cognato di uno dei corrieri a causa di un debito per l'acquisto all'estero di sostanze stupefacenti. Sarà un 8 dicembre diverso per i torresi. Quest'anno non sarà possibile realizzare per le vie cittadine la tradizionale processione del carro dell'Immacolata. Una scelta obbligata per l'emergenza sanitaria non ancora conclusa e in considerazione delle norme del protocollo CEI-Governo italiano e delle disposizioni del cardinale arcivescovo Crescenzio Sepe per le norme anti-covid. Quest'anno per le disposizioni del governo italiano e degli accordi con la CEI e anche per le disposizioni del cardinale arcivescovo per la nostra città non potremo realizzare la tradizionale processione per le vie cittadine. Ci saranno le celebrazioni, i rosari, i adorazioni, i predicazioni in basilica nella quale poi daremo tutte le disposizioni cammin facendo per come poter accedere in basilica. Per questo particolare momento la venerata immagine dell'Immacolata sarà esposta in basilica su un'apposita struttura che per l'occasione utilizzerà il tradizionale scivolo del carro trionfale e sarà circondata da tutti i puttini con i simboli mariani. Per venire incontro al desiderio di venerazione l'immagine resterà esposta nella navata centrale della chiesa per tutto il tempo delle feste natalizie. Ho pensato che proprio per favorire la venerazione dell'immagine dell'Immacolata resterà esposta al centro della basilica anche durante tutte le feste natalizie quando tanti torresi vengono da tante parti d'Italia. Speriamo che si possa venire perché il coronavirus, il lockdown ci ha aiutati a recuperare un valore evangelico, quello di vivere giorno per giorno. Speriamo che a novembre potremo uscire col programma delle celebrazioni annuali e allora secondo quel momento vivremo le celebrazioni sia di San Vincenzo che dell'Immacolata Concezione. Per oggi basta questo, insomma, esponiamo il bozzetto, do l'assicurazione che l'Immacolata sarà esposta in basilica in maniera solenne, faremo in modo che nei giorni della novena, nei giorni delle feste, tutti possano passare davanti all'immagine dell'Immacolata, ma sempre in attuazione di tutte le norme di sicurezza. Intanto sabato 19, come da tradizione, in occasione della festa di San Gennaro, patrono della città, è stato esposto in basilica il bozzetto del carro trionfale dal titolo Viva Maria. È tradizione che proprio nel giorno di San Gennaro venga esposto il bozzetto del carro dell'Immacolata che è stato preparato dal professor Raffaele Di Maio, Ave Maria, Ave Maria, perché è la preghiera che impariamo sin da piccoli, ma anche l'Ave Maria la recitiamo nei momenti dei bisogni, nel momento del pericolo. Mi diceva il realizzatore del bozzetto, ecco così chiunque guarderà questo carro potrà dire Ave Maria. Momento importante è la riapertura della cappella di Santa Croce. Ecco, come sapete il 14 settembre ricorre la festa dell'esaltazione della Santa Croce, perché qui in basilica conserviamo un pezzetto di legno della croce di Gesù e con il reliquiario molto prezioso del Settecento che fu dono dei caraffa alla parroccia di Santa Croce. E proprio per custodire in maniera dignitosa e anche solenne questa reliquia, proprio nel 1920, cento anni fa, fu costruita questa cappella che noi diciamo giustamente la cappella delle reliquie, perché oltre alla reliquia della Santa Croce in questa cappella venivano e tuttora sono anche venerate le reliquie di molti santi, molti di questi martiri. e al centro della cappella c'è una bella icona che rigiama proprio l'esaltazione della Santa Croce e in un'anichetta veniva posta questa reliquia molto preziosa della croce. C'erano delle infiltrazioni di acqua dall'esterno, per cui negli anni precedenti abbiamo provveduto sempre gradualmente al risanamento esterno della cupolina e anche delle mure attraverso le quali c'erano le infiltrazioni e poi abbiamo fatto una grande pulizia, ma la cosa più interessante è l'illuminazione a led che esalta i colori e le immagini di questa cappella. è visitabile tutti i giorni, perché essendo illuminata a led rimane illuminata tutti i giorni. Io suggerisco di guardarla di sera perché la luce serale esalta di più i colori e il cielo stellato del cupolino. Grazie a tutti i giorni, grazie a tutti i giorni.